3, 2, 1, vai, 50, tornante destro, bene eh, dai, fammi al beagle, per sinistra 5 vai, 200, al birri, tornante sinistro, dai eh, 50, tornante destro, 50, destra 3 più, per sinistra 4 più, vai, e 80, tornante sinistro, 50, tornante destro, vai, per destra 4, in sinistra 4 vai, 300, e alla freccia, destra 5 più, 300, attenzione, destra, in sinistra 3 chiude, in destra 3, 80, stai largo, ritarda, sì, sinistra 4, due tempi, tieni, per destra 4 lascia, in destra 4 meno su ponte, vai, 100, 100, destra 5 salta, in sinistra 5, per destra 4, in sinistra 5, 50, e al fine rai, sinistra e tornatino sinistro, dai che va bene, così deciso, pulito eh, per destra 5 è lunga, in sinistra 4, per destra 5 due tempi tieni, in sinistra 4 meno, 50, destra, in sinistra 4, 20, tornante destro, no, vai bene eh, e così, credici, per sinistra 5, per destra 4 tieni, in sinistra 4, 30, destra 4 tieni, in sinistra 5, 50, destra 5, 20, tornante sinistro, dai credici va bene, 80 a vista, destra 5, 100, e al cartello sinistra 5, per destra 4 più, in sinistra 4 più, 50, e al birri, tornante destro, 50, sinistra 4 più, per destra 5, vai, 200, vai, destra 5, 200, e al birri, tornante sinistro, dai che va bene, Luca, così deciso ci credi, per destra 4 più, per sinistra 5, per destra 5, lunga lascia, in destra 4, e subito sinistra 2 gira eh, 2 gira dopo eh, 80, stai largo, tornante destro, mi sta demolendo, dai dai, per sinistra 5, 80, destra 4 lascia, e subito destra 2 chiude, 50, sinistra 4 lunga, per destra 4, e subito tornante sinistro eh, 100, destra 4 meno, 100, e al birri, sinistra 2, per destra, in sinistra 4 più eh, 50, 90, destra 4 più lascia, per tornante destro, per sinistra 4, per destra 4, per sinistra 4 tieni, in destra 4 due tempi lascia, in tornante sinistro eh, oddio, oh siamo sotto di 3 quasi, vai, 100, vai, sinistra 5, 30, sinistra 4 meno tieni, per destra 5, in sinistra 4 più vai, 50, destra 4 lunga lunga gira, in cartello sinistra 3 più eh, 3 più a cartello eh, per destra 4, 50, e al birri, tornante destro, dovrebbe essere sotto di 3 Luca, 50, vai, destra, in sinistra 3, per destra 3 più tieni, per punto il cartello, sinistra 3 lunga gira, 8 in uscita eh, e 80, tornante sinistro, 50, destra 2 taglia eh, per sinistra 4, oh, per destra 5, 50, attenzione non vedi, tornante destro, 80, sinistra 5, 50, e al birri, sinistra 3, 200, vai, destra, per sinistra 5, cazzo c'ha, 50, destra 4 tieni, in sinistra 4 tieni, 20, destra 4 tieni, in sinistra 4 vai, 50, destra 5 meno, per sinistra 5, per destra 4 più lascia, in destra 4 gira, 100, sinistra 5, in destra 4 meno tieni, in al cartello sinistra 3, bravo, così figa deciso, se non sbaglio era sotto di, vediamo, sembra eh, la posso mia,